Esercizi per glutei e gambe. Come ottenere glutei scolpiti e gambe toniche. Se desideri ottenere glutei scolpiti e gambe toniche, sei nel posto giusto. Noi, esperti nel settore del fitness, ti guideremo attraverso una serie di esercizi altamente efficaci che ti aiuteranno a raggiungere i tuoi obiettivi di allenamento. Non solo acquisirai una maggiore forza nelle gambe e nei glutei, ma otterrai anche una migliore definizione muscolare. Continua con il video per scoprire i segreti di un corpo tonico e attraente, ma prima iscriviti al canale e lascia un like. Grazie. Squat profondi. Gli squat profondi sono un esercizio fondamentale per sviluppare glutei forti e gambe toniche. Ecco come eseguirli correttamente. Posizione iniziale. Mettiti in piedi con i piedi leggermente più larghi delle spalle e le punte rivolte leggermente verso l'esterno. Mantieni la schiena dritta e le spalle rilassate. Movimento. Fletti lentamente le ginocchia e abbassa il corpo verso il basso, come se stessi per sederti su una sedia immaginaria. Assicurati che le ginocchia seguano la linea delle dita dei piedi e che i tuoi glutei si spingano verso l'esterno mentre scendi. Profondità. Cerca di arrivare il più in basso possibile senza sollevare i talloni. Mantieni la schiena dritta e il petto in alto. Ritorno alla posizione iniziale. Spingi attraverso i talloni per tornare in piedi. Contrai i glutei nella parte superiore del movimento. Esegui tre serie da 12 a 15 ripetizioni per ottenere risultati ottimali. Affondi. Gli affondi sono un altro esercizio essenziale per lavorare sui glutei e sulle gambe. Segui questi passaggi per farli nel modo giusto. Posizione iniziale. Stai in piedi con i piedi uniti e le mani sui fianchi o lungo i lati del corpo. Movimento. Fai un passo avanti con una gamba e abbassa il corpo piegando entrambe le ginocchia. La gamba posteriore dovrebbe quasi toccare il pavimento, formando un angolo di 90 gradi con entrambe le ginocchia. Ritorno alla posizione iniziale. Spingi attraverso il tallone della gamba anteriore per tornare in piedi e ripeti con l'altra gamba. Svolgi tre serie da 10 a 12 ripetizioni per ciascuna gamba. Ponte glutei. Il ponte glutei è un esercizio mirato per i glutei. Ecco come farlo correttamente. Posizione iniziale. Sdraiati sulla schiena con le ginocchia piegate e i piedi appoggiati saldamente a terra. Le braccia dovrebbero essere lungo i fianchi con i palmi rivolti verso il basso. Movimento. Spingi attraverso i talloni e solleva lentamente i fianchi verso l'alto finché il corpo forma una linea retta dalle spalle alle ginocchia. Contrai i glutei nella parte superiore del movimento. Sostieni la posizione. Mantieni la posizione per 2 a 3 secondi. Quindi abbassa lentamente i fianchi verso il pavimento senza toccarlo. Esegui tre serie da 15 a 20 ripetizioni per ottenere una maggiore definizione nei glutei. allenamento con pesi. L'allenamento con pesi è un elemento essenziale per ottenere risultati ottimali. Aggiungi esercizi come lo squat con bilanciere, gli stacchi da terra e le distensioni su panca alle tue sessioni di allenamento per accelerare il processo di tonificazione. Alimentazione equilibrata. Oltre agli esercizi, una corretta alimentazione è cruciale per ottenere glutei scolpiti e gambe toniche. Assicurati di consumare abbastanza proteine, carboidrati complessi e verdure per sostenere la crescita muscolare e ridurre il grasso corporeo. Seguendo questa routine di allenamento e una dieta equilibrata, raggiungerai il tuo obiettivo di glutei scolpiti e gambe toniche. Ricorda di essere costante e paziente, i risultati arriveranno con il tempo. Buona fortuna nel tuo percorso di fitness! Questo video contiene una guida completa agli esercizi e alle strategie per ottenere glutei scolpiti e gambe toniche. Seguendo attentamente questi consigli, avrai la possibilità di raggiungere i tuoi obiettivi di fitness e superare la concorrenza. Continua a lavorare sodo e i risultati saranno evidenti nel tempo. Buon allenamento!